una bella ed importante vittoria per il club italia qui a soverato 3 a 0 secco i danni della compagine locale una della protagonista della gara è stata sicuramente lena pietrini con cui commentiamo questo match innanzitutto complimenti a te ea tutta la squadra la squadra tutta giovane ma che oggi ha disputato veramente una grande gara si oggi ci abbiamo messo tutto perché sapevamo che era una squadra abbastanza tosta e anche nel primo set eravamo sotto però abbiamo dovuto carburare i punti per rientrare bene in partita state attraversando sicuramente un momento positivo avevate già fermato la capolista mondo vi al tie break nel turno infrasettimanale una squadra che quella vista oggi che può sicuramente ambire ad un posto nei playoff si un po di partite che restiamo vincendo perché sono molto unite punto su punto e anche se siamo sotto restiamo concentrate coach barbieri commentiamo questa secca sconfitta interna per il volle soverato una partita per certi versi rocambolesca un primo set in tasca 24 18 poi perso al photo finish il primo set è sicuramente cambiata la partita in negativo per il volle soverato e certamente abbiamo perso il primo set in modo direi drammatico ecco perché 24 18 pensavamo di averlo forse già chiuso e questa situazione qua a livello mentale poi ci ha condizionato per tutto il resto del match non siamo più riusciti a reagire questo comunque non è una giustificante perché ci sta a perdere un set città perdere anche a 18 ma effettivamente poi qualcosina in più dovevamo fare loro devo dire che hanno fatto molto bene battuta e si è visto anche il primo set sul 24 18 e poi noi siamo un po incappati troppe volte abbiamo preso 11 muri che sono un pochettino troppi abbiamo programmato di giocare un po in modo diverso però è andata così complimenti a loro che che ci hanno creduto sempre fino alla fine la squadra che sicuramente ha spento l'interruttore dal punto di vista mentale dopo quel primo set perso in malo modo però è anche vero che poi nel secondo e nel terzo la squadra forza subito anche la fisicità e l'atletismo di queste giovani ragazze che hanno disputato un'ottima gara sì sì quello lo sapevamo loro una squadra che ha grande grande potenza in attacco come abbiamo detto a un muro però avevamo programmato di essere un attimino più attenti ecco arrivavamo poi da un bel momento stavamo bene stavamo giocando bene perciò come ho detto prima il primo set ci ha un po tagliato le gambe ma non è una giustificante perché è già successo altre volte se si vincono si perdono i vantaggi ci mancherebbe noi effettivamente un attimino abbiamo pagato troppo si è stata chiamata in causa praticamente tutta la squadra quest'oggi da lei per cercare di spezzare questo momento negativo durante il match però solo a tratti si è riuscito con i cambi a cercare quantomeno di invertire la rotta sì diciamo che ci abbiamo provato abbiamo provato prima sistemare un po l'attacco prima la ricezione poi l'attacco cercando di trovare ma a quel punto penso che anche come hai detto giustamente tu loro hanno giocato poi al cento per cento cioè uscite è stato un po il contrario di noi perciò loro a livello mentale hanno liberato il braccio e hanno fatto anche veramente bene perché devo dire che hanno fatto delle delle ottime giocate ci mancherebbe massimo bellano coach di questo club italia che coglie un importante bella vittoria qui sul campo difficile di soverato 3 a 0 una grande prestazione delle sue giovani ragazze quindi sicuramente sarà molto soddisfatto quest'oggi sì sì sono molto soddisfatto tranne la parte centrale del primo set dove dopo una bella partenza i primi dei primi otto punti di soverato se sono stati errori nostri e quindi siamo partiti bene poi li abbiamo rimessi e tenuti in partita poi secondo me loro stati bravi a portare a prendere un bel vantaggio e a giocare anche una bella pallavolo fino al 24 20 poi il giro di battuta di fare è stato secondo me molto importante loro forse ci hanno messo un paio di incertezze di troppo e finito il primo set poi credo che alla nostra crescita sia coinciso un calo piuttosto evidente da parte loro e quindi poi i due set successivi si è giocato poco onestamente probabilmente il classico leitmotiv di queste giovani squadre che quando poi prendono fiducia si esaltano e riescono come diceva anche prima barbiere a liberare il braccio hanno effettuato delle ottime giocate una squadra di giovani che si è esaltata presso coraggio presso entusiasmo dopo quel primo set vinto al photo finish e che ha messo in mostra anche grandi doti tecniche di alcune giocatrici che si spera possano essere logicamente anche il futuro della nazionale italiana di pallavolo perché questo poi l'obiettivo di formare e crescere queste ragazze sì sì assolutamente assolutamente l'obiettivo è questo e quindi giocatrici di talento ce n'è tante ce n'è diverse è chiaro che soprattutto nel giro d'andata anche la partita a Milano contro contro Soverato evidenziavano tanti alti bassi e secondo me soprattutto nelle prime 10 12 giornate anche troppi problemi in fase di difesa poi un po' alla volta siamo cresciuti tecnicamente in attacco stiamo imparando a gestire bene a gestire bene i colpi e abbiamo trovato anche una maggiore solidità nel gioco perché ora è da qualche settimana che riusciamo a mettere più continuità in quello che facciamo e quindi a regalare un po' meno agli avversari chiaramente poi da lì in avanti giocare con noi diventa difficile perché le ragazze sono sì giovani ma fisicamente un bel po' strutturate quindi poi diventiamo un avversario tosto per questo campionato. Allora a proposito della partita d'andata che ha menzionato lei in precedenza dalla partita d'andata a questa di ritorno un girone dopo possiamo dire che questo club Italia sta crescendo gradualmente come giusto che sia ed è una squadra che a questo punto si gioca tutto in questo rush finale potrebbe anche entrare nei playoff. Sì noi procediamo con un progetto tecnico piuttosto preciso e poi dopo le partite di questo campionato ce le giochiamo una per una per cui non stiamo facendo grandi tabelle anche perché poi al di là di tutto il mese di aprile per loro sarà questa ragazza sarà intensissimo perché le più giovani 2002 avranno l'europeo pre-juniores, le 2000-2001 avranno le qualificazioni all'europeo juniores quindi oltre al campionato inizierà l'attività della nazionale seniores e speriamo che questa cosa qui interessi e riguardi anche qualcuna di queste ragazze per cui l'attività sarà molto intensa e allora per noi la cosa più importante è andare giorno per giorno e non guardare troppo in avanti. Infine visto che è uno dei tecnici della federazione un giudizio anche su questo campionato di A2 con questa lotta serrata in vetta visto che siamo praticamente negli ultimi due mesi quelli decisivi della stagione. Eh guarda basta dire che ancora a due mesi della fine del campionato è difficile pronosticare chi arriverà prima per capire che tipo di stagione si sta strutturando. Noi ora abbiamo una striscia aperta di nove vittorie nelle ultime dieci partite eppure ancora non sappiamo se rientriamo o meno nei play-off perché c'è davvero un grande equilibrio. Forse manca una squadra o due come poteva essere l'anno scorso che avevano preso un netto vantaggio rispetto agli altri però c'è un bel equilibrio e secondo me anche con squadre che lottano per un retrocedere c'è da soffrire tanto. Noi a Marsala abbiamo vinto solo 3 a 2 facendo un bel po' fatica. A Caserta abbiamo vinto 3 a 1 per cui ogni settimana c'è sempre qualche risultato incerto e questo è sicuramente positivo poi per lo spettacolo e per tutte le squadre.